E siamo arrivati al nostro spazio dedicato al primo soccorso perché soprattutto in questo periodo che noi stiamo vivendo dobbiamo prestare ancora più attenzione agli incidenti domestici che rischierebbero in alcuni casi naturalmente addirittura di doverci portare, far portare al pronto soccorso. Ne parliamo oggi con il professor Francesco Franceschi che è ortopedico all'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma. Quali sono le fratture più frequenti e quali le principali cause? Così le evitiamo. Sicuramente le fratture più frequenti sono quelle a livello dell'anca perché abbiamo spesso persone anziane a casa che cadono magari inciampando in un tappeto messo male e cascano pesantemente battendo l'anca e purtroppo per motivi osteoporotici, cioè perché l'osso purtroppo a quell'età è sicuramente meno denso e meno forte, subiscono subito una frattura. Però non soltanto questo tipo di frattura, sono molto frequenti per esempio le fratture alla spalla. Questo perché? Perché il paziente cerca appunto di pararsi mentre cade proprio con le braccia, con le mani e spesso batte la spalla. Per esempio qui vedete questo qui è un omero, cioè un braccio, è fatto da questa parte qui che entra nella spalla che è più voluminosa, però anche se è più voluminosa è anche più osteoporotica e quindi è più debole. A quell'età chiaramente quando uno batte la spalla in questo punto è molto facile avere delle fratture molto ma molto importanti. Dobbiamo vedere se accompagnato al dolore si ha una impossibilità a muovere l'articolazione. Quando il paziente batte l'anca e sta per terra bisogna osservare se per esempio il piede è ruotato del tutto all'esterno, perché questo è un segno molto importante di frattura dell'anca, molto frequente. Quando uno riuscirà a muovere la spalla ovviamente ci sarà un segno appunto di frattura della spalla e dobbiamo stare attenti a trazionare il braccio, a cercare di rimetterlo in posizione. Perché? Perché purtroppo lì ci sono dei nervetti che sono talmente piccoli ma possono entrare all'interno dei frammenti che si possono ulteriormente danneggiare. Quando io sto per scivolare come mi paro? Chiaramente dobbiamo cercare di accompagnare la caduta, magari flettendo piano piano le ginocchia, le anche, in modo da tutire il colpo. Però soprattutto dobbiamo prevenire le cadute, quindi evitare magari tavolini bassi in casa in modo che magari uno disattentamente appunto inciampi vada a sbattere contro un tavolino, un tappeto messo male, soprattutto i menti bagnati. E nel bagno la doccia e la vasca dal bagno, non lasciamo da sole persone anziane a fare il bagno o la doccia perché purtroppo possono scivolare all'interno del bagno col pavimento bagnato, col vapore acqua e quindi fare delle brutte cadute e purtroppo subire delle fratture. Se mi faccio male alla spalla come la faccio prima di andare al pronto soccorso? Basta prendere. Perché magari se mi faccio bene al pronto soccorso non ci vado, che dice? Chiaro. Eh vai. Ecco, per esempio questa qui è una semplice fascia che potrebbe sembrare un foulard ripiegata in due, si mette intorno al collo e il paziente appunto in questo modo qui riesce a fare una immobilizzazione del braccio per potersi legare molto facilmente magari in un pronto soccorso. Questo è uno dei tanti esempi. La famosa borsa del ghiaccio invece è fondamentale per i problemi veramente minimi che possono verificarsi come per esempio piccoli urti, piccole contusioni, per ridurre l'ematoma e il gonfiore dell'articolazione quando per esempio uno batte un ginocchio. Una cosa però, quando io mi trovo col piede verso l'esterno perché ho sbattuto l'anca, che faccio? In quel caso purtroppo conviene rimanere per terra e attendere l'intervento magari di personale competente, quindi chiamare un'ambulanza e quindi il modo di arrivare appunto di infermieri competenti che sappiano in quel modo là trattare l'arto perché trazionando anche in questo modo appunto l'arto in modo sbagliato si possono verificare delle complicanze superiori. Allora è evidente che noi non abbiamo esaurito l'argomento cadute in casa perché si può sbattere la testa, ci si può ferire, ci si può far male in tanti altri posti e diciamo che abbiamo aperto un filone di cui ci occuperemo sicuramente anche nelle altre puntate. Nel frattempo ringrazio e saluto il professor Franceschi per i suoi preziosi consigli ed ora cambiamo argomento.